Si è svolta questa mattina la terza giornata del corso Norme di comportamento e codice di comportamento dei dipendenti pubblici, rivolto in particolare al personale della Polizia Locale e promosso dalla Regione. Vi hanno partecipato ufficiali e sotto ufficiali dei vari comandi del nostro territorio e per il prossimo anno sarà esteso a tutti gli agenti. Particolarmente significativo, puntualizza la dottoressa Giuliana Marchi, responsabile della formazione della Polizia Locale della Regione Friuli Venezia Giulia, che il corso prevede una partecipazione attiva dei partecipanti che consente interattività con il docente generale Sergio Abate, comandante della Polizia Locale di Trieste. Al corso è intervenuto anche il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. Il corso che è stato organizzato per la nostra Polizia e che coinvolge, ormai abbiamo una funzione provinciale, coinvolge anche corpi della Polizia Locale vicini, fa capire bene qual è l'impronta che noi vogliamo dare in questo periodo nel campo del rispetto delle regole e della sicurezza. Il rispetto delle regole passa attraverso il fatto che noi per primi dobbiamo essere trasparenti e dobbiamo essere corazzati verso quella corruzione. Le notizie di questi giorni parlano chiaro. Noi dobbiamo reagire ad una situazione di vera vergogna che a volte si è creata in altre regioni, ma non dobbiamo essere toccati da questo. Dall'altro, attraverso la nostra preparazione e l'essere trasparenti, guadagniamo il rispetto della gente e la credibilità. E quindi nel gestire la sicurezza, nel dare le informazioni sulla sicurezza della città, dobbiamo avere questa capacità di dire le cose che vanno, ma anche quelle che non vanno, perché non abbiamo limiti né filtri nel gestire una cosa così delicata. Sappiamo benissimo che la sicurezza è al centro delle discussioni in questo periodo, ma siamo anche convinti che la sicurezza in questa città sia eccellente, che può essere migliorata. Noi lavoreremo sempre per migliorarla proprio attraverso la preparazione delle nostre persone. Quindi anticorruzione, rispetto, credibilità per gestire la sicurezza in un modo più migliore e più incisivo.